E' l'ora dei big verso il voto sul referendum. Il Premier Matteo Renzi torna in Campania, regione ritenuta decisiva per il verdetto finale di una consultazione elettorale nella quale il numero degli indecisi è davvero elevatissimo. Non andrà però a Salerno il Presidente del Consiglio, che ha scelto Napoli per l'ultimo comizio. E nel video forum di Repubblica TV il Premier rilancia le ragioni del sì. Non si vota su chissà quali modifiche, si vota sulla riduzione della burocrazia in Italia. Stato-Regioni, Camera-Senato e soprattutto l'organizzazione del Paese. Sull'altra sponda si è affidato ad un videomessaggio invece l'ex Premier Silvio Berlusconi tornato in campo come ai vecchi tempi per sostenere le ragioni del no. Diciamo no per poter cominciare tutti insieme il percorso per una vera e diversa riforma dopo avere finalmente restituito agli italiani il diritto di scegliere da chi farsi governare. Campagna elettorale frenetica anche per il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ai microfoni di Radio Anch'io è stato categorico è infondato, ha detto De Magistris, l'argomento dei sostenitori del sì secondo cui la riforma non tocca i principi fondamentali della Costituzione. Il Sindaco di Napoli ha sottolineato che con la riforma Boschi si riducono profondamente i bilanciamenti di garanzia perché il Premier avrà più potere e potrà essere più incisivo nella nomina dei giudici costituzionali, nella scelta dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, nella elezione del Presidente della Repubblica, nel dichiarare lo Stato di guerra e infine potrà intervenire anche sui contrappesi tra maggioranza e opposizione.